Bentornati amici, oggi torno da voi con un contenuto che voglio portare su questo canale perché, come alcuni di voi sapranno, il mio viaggio nella fotografia e nel videomaking è partito con la musica. Bene, eccoci qui, questo è uno dei nostri fuori programma che di tanto in tanto riesco a portarvi. Non mi dilungherò tantissimo, però comincio col dirvi, mettete subito un bel like a questo video sulla fiducia, premiate lo sforzo perché siamo qui anche durante la settimana a sfornare contenuti e iscrivetevi anche a questo canale perché questo è un contenuto spot, però arriveranno dei contenuti molto più corposi di questo che usciranno generalmente il lunedì e da cui tutti quanti, fotografi e videomaker, avrete bene o male qualcosina da imparare, quale che sia il vostro livello di preparazione. Bene, come vi dicevo, io ho cominciato a muovere i primi passi nel mondo dell'editing in generale perché allora si trattava di editing audio, da cui poi sono passato all'editing foto, all'editing video per arrivare dove mi trovo adesso, quindi ho abbandonato l'ambito sonoro per dedicarmi a qualcosa dove mi reputavo più bravo io, avevo più soddisfazione da parte di chi mi commissionava i lavori ed ero anche rimunerato maggiormente. Però la componente audio non mi ha mai abbandonato, ho sempre una cura, un'attenzione particolare a quello che è il sonoro e questo mi porta spesso e volentieri ad avere un occhio di considerazione per quello che è l'audio e la resa sonora anche dell'ambiente di lavoro, non solamente dell'audio che andiamo a fruire, quindi in cuffia o su degli speaker, ma proprio l'audio dell'ambiente in cui lavoriamo ogni giorno. Ora facciamo un po' di storia, come direbbe la signora Comoletti, la mia professoressa del liceo, contestualizziamo. Vi ricordo che entriamo nel 2022 dopo una crisi mondiale, una pandemia che ci ha lasciato scossi e che ha lasciato delle profonde cicatrici in ciascuno di noi. Proprio a questo punto della nostra storia, secondo me, è importante fare una riflessione sulla sonorizzazione degli ambienti e in particolare su come possiamo migliorare il nostro ambiente di lavoro per lavorare meglio. Faccio questa riflessione adesso perché il mio ufficio, il luogo in cui lavoro, ha cominciato a ripopolarsi di persone che magari erano a casa in smartworking o comunque che si alternavano per non creare sovraffollamento in uno spazio comunque limitato. A questo punto che cosa succede? Avendo due situazioni che vanno a collimare, per cui il rientro dei colleghi in ufficio e le abitudini che ormai sono radicate in alcuni nostri clienti, per cui laddove prima veniva scritta una mail adesso si fa una call, per cui abbiamo automaticamente più persone in uno spazio che prima era molto più libero, abbiamo più persone e ognuna di queste persone passa più tempo al telefono perché ogni singolo cliente richiede ora delle attenzioni particolari e vuole essere coccolato e telefonato ogni minuto del giorno in maniera tale da avere sempre una voce amica che gli dica che è tutto sotto controllo. Sì, perché noi facciamo anche una sorta di servizio psicologico tutto sommato. Detto questo, un ambiente di lavoro quindi più piccolo che si vede improvvisamente riempito di persone, tutte che parlano al telefono, è una cosa che non è facilmente sostenibile, a maggior ragione per una persona che è stata diversi mesi, se non addirittura in certi casi anni a casa sua in smart working nella tranquillità delle sue mura domestiche, laddove poi le mura domestiche siano tranquille, questo è un fattore assolutamente soggettivo. Ebbene, io oggi vi voglio raccontare di una piccola soluzione personale che mi sono sentito di adottare per andare a mitigare questo effetto rimbombo di queste continue telefonate che si verificano sempre più spesso all'interno del mio ambiente di lavoro. Vi voglio far vedere questo prodottino, qui in realtà stiamo vedendo la custodia, andiamo ad aprire la custodia e vi faccio vedere il prodotto vero e proprio. Queste sono cuffie di un brand che io non riesco nemmeno a pronunciare bene perché è Mix Sider, quindi forse Mix Sider. Non sono sicuro esattamente di quale sia il pronuncio, fatto sta che queste cuffie venivano date come cuffie con attenuazione attiva del rumore. Quindi questa è una cosa su cui mi sono andato a informare perché mi interessava molto e a quanto pare queste cuffie hanno un particolare sistema. Da un lato abbiamo una copertura abbastanza spessa che quindi va a fasciare le orecchie e va a mascherare quelli che possono essere i suoni presenti nell'ambiente. Dall'altra parte abbiamo un meccanismo interno che è come se andasse ad attenuare automaticamente i rumori presenti in stanza. Come potete vedere calzano perfettamente. Io non posso fare un vero real world review di queste cuffie perché non posso farvi sentire quello che io sento eppure vi posso dire quali sono le mie sensazioni. Io vi assicuro che solo per il semplice fatto di averle indossate la dichiarazione del venditore è che taglino intorno ai 20 decibel. Io vi assicuro che solo per il fatto di averle indossate io ho una nettissima riduzione di quella che è la sensazione del mio parlato. Sostanzialmente questa cuffia taglia tantissimo dell'audio presente nella stanza e quindi rende l'ambiente di lavoro assolutamente più confortevole e più idoneo a sessioni lunghe, medio lunghe o lunghissime come sono quelle che spesso e volentieri ci troviamo a fare noi fotografi e videomaker. Ora un sistema come questo in questo momento storico secondo me è indispensabile per prevenire mal di testa, emicranie e fastidi vari. In una situazione, in un ambiente di lavoro in cui c'è concitazione, in cui ci sono colleghi che giustamente stanno dietro ai clienti, un ambiente in cui diventa difficoltoso pensare, ragionare, chiudersi all'interno di noi stessi e fare un ragionamento di senso compiuto, un device di questo tipo può assolutamente migliorare tantissimo quello che è l'ambiente di lavoro. In questo momento le cuffie sono addirittura spente. Ciò non di meno la sensazione che io ho del mio parlato è nettamente, nettamente ridotta. Nel momento in cui vado ad accendere le cuffie e vado ad attivare la riduzione del rumore, questa sensazione di attenuazione del rumore esterno aumenta ulteriormente. Vi faccio vedere queste cuffie perché secondo me sono un gadget molto interessante in questo momento storico. Ovviamente hanno una risposta in frequenza dichiarata che mi pare vada dai 20 ai 20.000 hertz, quindi una risposta in frequenza classica di una cuffia media. Questo non ci dice nulla sulla qualità del suono ovviamente, ci dice solamente qual è il range di frequenze che è in grado di riprodurre. Io ho testato queste cuffie e devo dire che sono abbastanza soddisfatto, nel senso che il range di frequenze che percepisco su canzoni che conosco, su audio a cui sono abituato e a sue fatto tramite altri sistemi di ascolto, mi restituisce una sensazione comunque molto piacevole. Quindi sono contento di quello che sto sentendo. Non ho preso queste cuffie per farci degli ascolti approfonditi, quindi sono cuffie da lavoro che indosso in un ambiente di ufficio, quindi il volume lo voglio tenere basso, non è una situazione dove mi voglio godere la canzone e non è nemmeno una situazione dove devo lavorare con l'audio, è semplicemente una situazione di attenuazione del rumore dell'ambiente, che può essere una finestra aperta con i rumori della strada, così come può essere il chiacchiericcio di altri due colleghi, così come può essere il vicino di casa che fa casino, cosa che qui a me sta particolarmente a cuore perché i miei vicini sono molto rumorosi. Queste cuffie danno una sensazione di pace e di calma veramente totale. Ora, perché vi dico che non sono cuffie con cui vado a eseguire dei lavori in ambito audio? Proprio per il fatto che venendo io dall'ambito audio sono abituato a una strumentazione un pochettino più complessa e professionale e qui vi faccio vedere una chicca. Queste sono le cuffie monitor da studio che io utilizzo quando devo fare dei lavori con l'audio. Queste qui sono delle cuffie AKG e in particolare sono le AKG K702. Sono delle monitor da studio dichiaratamente, quindi non sono delle belle cuffie d'ascolto. Attenzione perché sono due cose diverse. Noi qui abbiamo una cuffia, valore dichiarato su Amazon, che si aggira intorno agli 80 euro che ha la peculiarità di isolarci dall'ambiente circostante, quindi ci consente di lavorare meglio, ci consente di isolarci da quelli che sono i rumori presenti nella stanza. Questo è un discorso, è una cuffia con un buon ascolto, quindi una cuffia che rende piacevole l'ascolto è che è tarata per dare un ascolto piacevole eliminando al contempo i rumori presenti nella stanza. Con le AKG siamo completamente in un altro pianeta. Queste sono delle monitor da studio, quindi hanno una frequenza di ascolto molto flat perché servono per mixare e servono per lavorare con l'audio. Quindi nel momento in cui io sto facendo una produzione audio, vabbè non ne faccio più, però se sto facendo il sonoro per una clip, se sto sonorizzando qualcosa o se sto andando a fare l'ipsync, a mettere il doppiaggio o cose di questo tipo, vado a utilizzare queste cuffie perché questa è la risposta professionale al mio bisogno di quel momento, che è quello di avere una taratura professionale dell'audio che sto sentendo che poi deve andare sul prodotto finale che io vado a consegnare al mio cliente. Quindi sono due contesti completamente diversi. Ora, che cosa vuol dire questo? Che con queste cuffie non si può lavorare in ambito audio? Assolutamente no, io non mi spingo a dire questo e anzi vi dico il contrario, con queste cuffie si può lavorare in ambito audio, perché comunque una volta che io ho imparato a riconoscere quelle che sono le peculiarità della mia strumentazione, quindi conosco le frequenze che vengono catturate dal mio microfono, so come risponde in un determinato ambiente, so come rende in cuffia, perché ho sentito i miei prodotti audiovisivi una volta terminati non li ho più sentiti con le cuffie monitor, le ho sentiti con un ascolto casereccio, quindi so come deve essere la resa finale, a quel punto io sono in grado benissimo di lavorare anche su un sistema wireless un pochettino meno costoso. Stiamo parlando di una differenza di prezzo importante perché le AKG costano il doppio di queste se non di più. Queste qui oltretutto sono cuffie wireless, quindi a batteria, quindi hanno anche il problema in più di essere wireless. Ora, la trasmissione wireless non sempre è indolore, perché se da un lato è molto comoda, ci consente di muoverci liberamente senza più dover pensare all'ingombro del filo e quindi magari ci evita anche in un momento di distrazione di rovesciare qualcosa, quindi assolutamente una comodità, dall'altro lato però la trasmissione tramite cavo è un'altra cosa, ci consente e ci garantisce una qualità maggiore, ci consente e ci garantisce che non ci sarà delay tra quello che noi stiamo andando a riprodurre e quello che arriva al nostro orecchio, mentre su queste io potrei, dico potrei perché non le ho ancora testate approfonditamente per quanto riguarda specificamente il delay, potrei avere un lieve ritardo. Questo che cosa significa? Che su certe sequenze montate dove devo essere assolutamente sicuro di essere sul beat, mi baserò molto sul mio occhio perché andrò a vedere che il picco sonoro nella forma d'onda corrisponde esattamente al mio taglio in fase di montaggio, quindi se corrisponderà a quello che sento saprò che queste cuffie sono abbastanza precise anche per quanto riguarda il delay e non ho motivo di dubitarne in realtà, però siccome sono diffidente di natura andrò a farlo questo controllo, quindi guarderò se la forma d'onda mi conferma che il beat è esattamente dove sto facendo, dove devo fare il mio taglio. Una volta fatto questo controllo io non avrò più nessunissimo problema a lavorare anche in ambito audio con queste cuffie laddove si parli di realizzare delle clip montate, quindi laddove si tratti di andare a mettere del sonoro su delle clip all'interno di un mio progetto di montaggio. Ovviamente se si parla di mixare audio, quindi audio per la musica o audio per il cinema o che dir si voglia, queste ve lo dico non vanno assolutamente bene perché a questo punto non hanno quella gamma flat che è assolutamente indispensabile per percepire nitidamente tutte le frequenze e andare a fare delle scelte consapevoli sull'audio a livello di equalizzazione e di dinamica, quindi in quel caso assolutamente serve un ascolto professionale, servono delle cuffie monitor da studio. Però è un discorso completamente diverso. Io oggi ci tenevo di più a farvi vedere questa soluzione che personalmente ho reputato molto molto carina, qui all'interno come potete vedere abbiamo un cavetto jack che serve eventualmente a collegare le cuffie a un device da cui viene trasmesso l'audio, quindi si possono collegare anche via jack, però è un po' un controsenso perché vanno comunque a batteria, vanno comunque sul circuito bluetooth, quindi collegarle al cavo, avere un cavo, oltretutto un cavo abbastanza rigido, non è un cavo morbido, quindi sarebbe abbastanza fastidiosa una soluzione di quel tipo, quindi assolutamente io consiglio di usarle wireless. E qui invece abbiamo il suo cavetto di ricarica, non ho ancora testato se funzionano anche mentre sono in ricarica, quello sarebbe interessante perché il tempo di ascolto garantito è molto alto, quindi non ho particolarmente paura che si scarichino mentre le sto usando, però se dovesse succedere sarebbe molto interessante poter proseguire l'ascolto attaccando il caricabatteria, a quel punto sarebbe una rottura di scatole perché di nuovo avrei un filo, però quello sarebbe provvisorio, una volta caricata potrei staccarlo e la scheda del produttore comunque dichiara che poco tempo di carica è sufficiente per garantire almeno un paio d'ore di ascolto, quindi con veramente poco tempo di carica sarei pronto a ripartire e passarmi altre ore di ascolto con le mie cuffie. Ora, una cosa che devo dire su queste cuffie è, ovviamente in un ambiente d'ufficio dove magari si lavora per 8, ma noi sappiamo benissimo che fotografi e videomaker non lavorano 8 ore, ne lavorano 9, ne lavorano 10, ne lavorano 12, non guardate me, io assolutamente non ne lavoro 12, mai! Non importa quale sia il numero di ore che lavoriamo, è possibile che sia molto superiore al numero di ore che vorreste tenervi addosso delle cuffie. Parliamo un attimino di ergonomia, queste cuffie sono disegnate bene secondo me, cascano bene sulla testa, ovviamente hanno delle regolazioni perché le nostre teste non sono tutte uguali, nemmeno le nostre orecchie sono tutte uguali e lì vi deve andare un po' di fortuna perché per esempio a me cascano giuste, mi vanno esattamente al pelo, nel senso che fasciano perfettamente l'orecchio ma è proprio questione di millimetri, cioè sono esattamente a contatto sia sopra che sotto quindi non ho agio per muovermele, sono in quella posizione e stanno incollate lì. Se questo da un lato è esattamente lo scopo di queste cuffie che oltretutto premono molto perché per insonorizzare bene devono schiacciare, da un lato è il loro scopo quindi da quel punto di vista funzionano, dall'altro lato però un ascolto prolungato e anche semplicemente tenerle su prolungatamente può provocare dei fastidi perché comunque ce le abbiamo addosso per tutto il giorno e dopo un po' la pressione comincia a farsi sentire. Quindi io comunque non consiglio di tenerle su tutto il giorno, consiglio di relegarle a quei momenti in cui c'è maggiore concitazione, in cui c'è maggior bisogno di avere qualcosa che ci isoli dai rumori ambientali. Magari a quei momenti in cui dobbiamo fare una call e non sentiamo bene quello che ci dice il cliente perché c'è altra gente che parla, oppure a quei momenti in cui dobbiamo sentire l'audio di un video che stiamo montando e ci sono due colleghi in call dall'altra parte e quindi non riusciamo a sentire. Perché purtroppo gli spazi sono quello che sono e non sempre si riesce ad avere un ufficio privato. So benissimo che è la stessa situazione che trovo anche in molti contesti in cui lavoreranno persone che stanno guardando questo video, quindi vi consiglio una soluzione di questo tipo, non necessariamente questa, però vi garantisco che con questa cuffia in certi momenti della giornata la mia vita migliora notevolmente. Laddove prima sarei uscito con un bel mal di testa, questa volta esco semplicemente e con i capelli un po' spettinati, che è assolutamente accettabile. Bene, questa non voleva assolutamente essere una recensione anche perché non posso farvi sentire, quindi dovrete fidarvi della mia parola, però vi dico di più, se avete domande specifiche su questo o su altri prodotti lasciatemi un commento, sarò felice di rispondervi per quello che potrò perché non conosco bene tutti i dettagli tecnici di questo prodotto, vi posso dire solo le cose che ci sono sulla scheda tecnica, quindi la risposta in frequenza o altro. Però se avete quegli 80 euro da investire e se lavorate in un contesto particolarmente rumoroso, secondo me una soluzione come questa un paio di volte all'anno vi salva decisamente la vita o quantomeno la giornata e di sicuro vi consente di consegnare un prodotto migliore. Laddove dovete andare a mixare un prodotto audiovisivo, quindi c'è anche una componente audio e lavorate in un ambiente rumoroso, un prodotto di questo tipo può veramente, veramente farvi la differenza e in un contesto del genere lo preferirei anche rispetto alle mie meravigliose AKG perché tenete conto una cosa, queste cuffie sono nettamente superiori sotto tutti i punti di vista, però c'è una cosa su cui cascano, se c'è rumore nella stanza queste cuffie non vanno più bene perché queste sono cuffie professionali e ci si aspetta che vengano usate in una stanza trattata, in una vita studio, per cui in un contesto rumoroso non avranno più la resa dichiarata quando vengono acquistate, avranno una resa inferiore e a questo punto che è molto meglio utilizzare un sistema con attenuazione del rumore, io non ero molto convinto di questo sistema di attenuazione attivo del rumore, devo dire che dopo averlo provato non solo ne sono contento ma sono addirittura qui a consigliarvelo. Bene amici eccoci arrivati alla fine, a questo punto non mi resta altro da fare se non chiedervi un like per questo video se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perderete i prossimi aggiornamenti, vi ricordo che questo è un contenuto spot, quindi i contenuti corposi arriveranno più avanti ed escono di solito il lunedì, per cui se mettete un bel segui adesso e attivate la campanella non vi perderete il prossimo contenuto e io vi aspetto al prossimo video.